Maria Chiara Cefaloni, oggi ci troviamo in un bar particolare, ce lo vuoi descrivere? Sì, oggi siamo nel Calitea Bar, la Branca Perrata, per lo Solato Mob. Lo Solato Mob è una realtà di cittadini che si è attivata in contrasto al sistema della l'azzardo e in particolare siamo qui oggi per premiare con il contafoglio, quindi effettivamente consumato del nostro bar, per premiare un bar che ha deciso di rimettere l'offerta dell'azzardo nel proprio bar. Ecco, però tutti si chiederanno a questo punto, ma se uno viene qui e vuole passare una mezz'oretta, un'oretta con gli amici, che cosa fa? Glielo vogliamo far vedere? Allora, ci sono i bigliardini, ma c'è un'altra cosa che mi ha colpito, c'è una mega schiacchiera, è un modo diverso. Sì, intanto, Bratmob è uguale promuovere il tuo gioco, il gioco di relazione, di creare l'azione, come potete vedere oggi in questo bar, piuttosto il gioco che è stato ormai associato molto spesso all'azzardo, perché, riveghiamo, l'azzardo è un gioco, quindi Bratmob vuole far passare questo e lo fa passare oggi, tramite questo messaggio molto vivo. E il bar è pieno, è veramente pieno. Complimenti e alla prossima. Grazie a voi.